Io ho iniziato tipo adesso Quindi c'è la schermata di caricamento Quello è mega titolo In arancione Allora non è arancione Giallo tendente all'arancione E piove di nuovo Ciao orecchia Aspetta che mi allontano Allontanati dalla zona Sennò poi senti a riecheggiare Tutti i casino Detto così suonava brutta Ti ero al culo Poi ho saltato Mi ha ripreso Ti vedo andare a scarti Il caricamento qui è penoso Guarda Io nel dubbio Me ne vado qua dietro nell'angolino Sta laggando malissimo No, laggando una porca C'è 24 fps A me sta laggando malissimo Abbiamo ancora 20 secondi Dici che arrivo all'acqua All'acqua Aspetta che non l'ho guardato Allora partendo dal presupposto che non siamo in Minecraft Un cubetto d'acqua non mi salverà Eeeh Sei tutto fatto? No, ero vivo Anche se è caricato così non è nulla Non lo so, l'ho fatta da solo Allora Arriviamo da sud Zona militare Vuoi più andarti lì in mezzo a far reissa? Far reissa così poi il video dura poco Ok Pronto? No, scazzata No, scazzata Ok, andiamo Sì o no? Quando vuoi? Tu dici e cioè vai e io vado No, aspetta Facciamo una cosa più decente dai Ecco Dure 5 minuti Ok, poi dico Ah, sei un videograb Ehehehe No, è diverso Facciamo di nuovo come prima, dai proviamo Prendiamo e scappiamo Pronto? Dove è andata Dove è andata Ma che è di prima Prendiamo e scappiamo Vai Vai Un attimo per solo la comprensione Sì, è ovest Verso dove è verso ovest Dove è minchia è l'ovest Dove è minchia è l'ovest Verso ovest W Ah, sì, è Venezia Mica non mi caricava le case Non la riconoscevo Tisora Dai, fiondati giù Così La mia musichetta del menuto Era carina Io cerco di fare come prima Di atterrare sul tetto della casa Ma non penso di riuscirci Io cerco di scendere Più in verticale possibile Roteando su me stesso Come un deficiente Farò prendere mal di mare Chiunque stia guardando questo video Compre da me Che lo sto facendo Ok, sono arrivato Tu prendi la macchina Che io guardo Se c'è qualcosa qua dentro di utile Sì Il container Ormai chiuso, vero? Ok, io ho preso un po' di munizioni Un po' di... E una pistola Aspetta, eh È una cosa da non fare questa Però Hai trovato qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcosa? Ah, no, ce lo sai Cazzo Cazzo Vabbè Il primo, il piano Tra l'altro la moto è pure fighe Non è come le dacia vecchie Che ci sono Questa è una BMW serie Chiaramente è una BMW Sento uno sparo Io ho sentito anch'io Quindi muovo il culo Io sono già in sella E la moto non fa rumore Cioè? Sento il ruolo della moto No, adesso lo fa C'è anche la retro Lo sapevi? C'è anche? La retro Se te ne stai fermo Ok Te sali? Guarda dove è il cerchio Vai in alto Di nuovo a George Di nuovo Che non c'è passato l'aereo Lì vicino È passato abbastanza distante Io non me l'ho acceleratore Così succede Succede No, cazzo Non c'è il turbo No Però si faccia così In penna Rischiamo Te lo dico Però non puoi dare a destra senso Se puoi dare il peso No, non penso Però se c'è la destra senso Non va Destra Eh, tranquillo Oh, non ho ancora mollato l'acceleratore Ce l'ho ancora in sella C'è un layer drop Questo parlo Troppo presto Lo vedi te? Ti sto guardando Sento l'aereo Non lo vedo Pensavo di riuscire a girare Questo è l'aereo Non lo vengo Vabbè, niente In fermo dove ci siamo formati prima? Eh, sì Però facciamoci le casette Queste qua sulla destra Sono più grosse I due palazzi qua sulla destra Il bosco è il side Se tu ti fai un palazzo Io mi faccio l'altro Faccio il primo quadro Ma il secondo Sì Scusi Questo è tre piante E appunto Perché è più grosso Ci sarà più roba Grosso E come l'iPhone Grosso più grosso Ok Troppo giù una pistola E i guanti E la cosa Pifo Non mi fa Compreso i proiettili Ho ben 15 proiettili Ma non c'ho un'altra scatola Infatti Mi ha fatto l'animazione Che brutta l'ombra Al minimo Oddio Mi ha fatto l'animazione Di raccogliere la roba Ma non me la raccoglie Ok Sto piano qua Non c'è una sega di niente Per cosa non è propriamente Bella Da vicini Uh salve Fucile da caccia Fucile da caccia Interessante Ah mi sa che sono Uno shotgun Se è quello da doppietta La serie doppietta Il fucile da caccia Fa tanti danni Ma ho trovato Le cartucce grosse Allora abbiamo due minuti Per finire il giro Io ce la faccio Vabbè che siamo vicino Però Io salgo adesso Salgo adesso Al primo piano Il pianterreno Non è ancora finito Il piano terra Quasi Ho solo più due stanchi Vedo Con un retro No E' un fuori Con un retro Allora Quali su est Guardi Io ho fatto su due redotte Quindi se uno poi ti serve Sì Poi mi servirà Perché non ho trovato Almeno per ora Non ho trovato niente Cos'è sto qua Il fucile E quale Come è Cule Cule mp9 Quante Quante è sto qua Ah ok Cule da 5 Bene Altro back Quella cos'è Ho trovato il vector Il vector qual'è che mi sfugge Ho trovato il semi automatico Cioè full automatico Rapido Tantantantant Io ho trovato un petto Livello 2 Però è a distanza Molto ravvicinata Però potevi prendermi Porca troia mi ha lasciato lì Mi ha lasciato lì il fucile pesante Invece di lasciarmi il WMP9 Eh brutta storia Quello S-R Ho un livello 1 Pistola cosa? No ma aspetta ma sto qui il fucile a pompa No affanculo No ho visto M16 Alla M416 No 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 Eh lo so No ma perché ho posato la padella Ma ho convinto eh Arrivo a padella Ho una super arma Puoi pisciare dentro Eh no Questo no questo le prendo Questo le prendo Ah ricordati se riesci Fai su tutte le munizioni possibili Inimmaginabili Sì lo stai facendo Vabbè Ti lo te l'ho detto Tre piani abbiamo qui Impressante Merda io ho fatto l'ultimo piano Ho trovato un cazzo ancora Di utile Ho iniziato adesso Mi sa di backpack M16 Ciao fucile da caccia Benvenuto M16 Beato te Ne trovassi uno io così di fucile Sarei anche contento Ma non è questo il giorno Infatti una casa fatta così Penso di non averla mai trovata Le case sono ripetitive Perché questa Scusa ma che cazzo di fucile ho preso M416 5.56 L'unica munizione che non ho trovato No ne ho navalangato O anzi non ho più spazio L'ultimo piano Salito le scale a destra Non ce ne sono un po' Dalla tua parte? Sì non ho più spazio Non ho più spazio Non ho più spazio Non ho più ventato Eh ma io devo scendere e salire adesso Siamo dentro o fuori dalla zona? Oh siamo dentro Abbiamo ancora un bel po' di vantaggio Aspetta che vengo da te Allora faccio le munizioni Eh io sto montando tutto quello che posso Per riuscire a Solo boot C'era l'uscita di qua? No Prendo l'energy drink Mi prendo i proiettili E nell'ultimo piano che c'è l'MP Stoccazzo L'MP sto cazzo Toc toc Sì su Ultimo piano Comprende? Eh ho appena chiuso la porta Ti devi rilassare Allora di questo ho 92 colpi Di questo è una 120 Della pistola è una 92 Ora è solo questione di sopravvivere Dove 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 dove? Prego M416 C'è lo stesso con io Però che lo stesso con tu Sì Cos'è questo? Lo so l'ho preso io Eh Cosa vuoi? Redot? Flash Heider Ah è la punta Posso montarlo Al vector Cosa vuoi scusa? Vuoi il redot o l'orografico? Dammi l'orografico va Dovebbe essere a terra Io un tactical Aspetta c'è un tactical Ti lascio il tactical stock Che per l'M416 Ottimo No che cazzo Dov'è? Ok Tu hai Hai la P900 qualcosa? No P1911 Ho il vector Ah vector Vidi qua Quick draw per vector Ciappa Sì Tutta Che munizioni usi te? Vector usa le 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 45 Cazzo anch'io Le 5 e 56 mi servono Le uso anch'io Le 9 mm le vuoi? Dove ho uso questa? No Tenetela pure Ne ho a go go anch'io Le 7 e 62? No Niente Cosa che volevi darmi? Le 7 e 62 No C'era qualcos'altro che volevi darmi prima Per il vector Per il vector Però è della terra Eh? No È per terra Dove? Quick draw mag micro-uzzi WMP9 e vector Ah eh Non me lo dava Nel enco Ma mi ha preso il fucile F E non me lo lascia prendere Schiaccio Fai tab Non me lo lascia prendere Ma fai tab? Ma intanto ho le extended mag montate Dai va bene così Quanto il cazzo Ma la massa Ho 13 proiettili Qui ha uno shotgun O qualcosa del genere Perché qua dentro C'è la cartuccia R-3 L'ho buttata io Prima a terra Potrebbe essere Servire a me? Sì Cochè? Un ingegnere Kalashnikov Fanculo Adesso che abbiamo bestemmiato Come dovrei Mi tengo le M16 Va bene Io mollo giù il fucile a pompa Mi sono arrivato il cazzo Lo sapevo Vaffanculo La stanza non l'avevo ancora aperta Stavo uscendo E mi sono ricordato Di quella stanza da prima Cosa usa Le 7 e 62 Come in azione Infatti le è pieno Io non le uso Le 45 però sì Siamo solo più 47 Sì Vedi Redendo e scherzando E siamo dentro E il muro sta arrivando Ma cazzo te ne frega Intanto usciamo dalle case di qua Ma sì noi D'accordo Però dico Che roba Penso di non aver mai vissuto Così tanto Perché abbiamo imparato Le tattiche adesso Sì però voglio fare così Cioè Voglio Non ti sdegnerei Di fare qualche file Questa parte dove va Questa è un po' Questa è un po' Certo Abbiamo tre minuti Vuoi farti ancora sta casetta qua Così per curiosità Così quasi Tanto non mi sembra sia passata gente Da ste parti Quindi No sembra tutto A parte un colpo prima Ma eravamo ancora laggiù Sì Vabbè Si fai soffrivo dopo Ho qualche dubbio amletico Che non sia passata gente Sai Ah no no Ok ci sono Quindi nove millimetri Non ti servono Mi hai detto No però aspetta Perché ho trovato Ho trovato I calzoncini Questa No Questa così Mi risolvo un po' di spazio E uso ancora questa Così mi dopo Come si deve Con la Red Bull Lo sto bevendo anche in real life E mi prendo questa Come no Ho usato due cose Non posso non aver più spazio Dai merda Cosa uso Lo butto Questo Che avevo già Vaffanculo Perfetto Grazie Ti senti pronto Ti senti carico Manco per il cazzo Ok Perfetto Dove minchia sei Sei uscito Sono qua Puntiamo su Severny Che è ancora Anche un po' più rischiosa Però Devo guidare io Anzi No Puntiamo su questo Questo gruppo di casette Guarda lo vedi È un aereo È un aereo di roccato Quello Veramente Ok Guida te Ok Hai un minuto e trenta Per raggiungerlo Puoi farcelo Ora vediamo come se la cava Stiamo anche in fuoristrada Se è veramente un bmw Sola dovrebbe cavar bene E invece E' pronto? Non rischiare troppo Dagliene Dagliene Sono un po' più sbagliato Un attimo Vieni Sali Brutto coglione Occhio Non passare troppo vicino alle case Guarda che c'è gente Con la moto Passiamo più veloce Penso che non ci sia Nessun veicolo Che va così veloce Non lo so Non ho guardato La velocità massima E non voglio saperla Per il momento A parte che ha Appena sfiatato il terminale 60 all'ora La casetta di roccata Però potrebbe essere Mestiosa Ma è chiusa Proprio destra Allentra 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 Sempre di fianco Destra Destra Scusami Perché voglio Che vada adesso No aspetta Mi sono un attimo perso Ah è qua È qua davanti a noi No scusa Guardavo la mappa Non guardavo il Ah Guarda la gamba Non lo faccio domani Fermati Fermati Ok La roba Guarda bene Guardati bene attorno Che non ci si sa mai Però sembra vuoto Peccato E lo senso Questo posto c'era già O è stato giunto No no C'era già Soltanto che io Non ce l'ho mai andato Anche io Per vedere il capanno Uh senti che c'è l'aereo Sì Dov'è? È dietro Dov'è? Mi sembra No Mi sembra verso est Ma non riesco a vedere Ah no È verso nord est Guarda Adesso guardo Dove cazzo va a droppare Oh Medikit grosso Dove cazzo va a droppare Non l'ho visto Saper Comunque di qua Molto rapido È passato qualcuno Perché non c'è niente Né sui barrigli Dietro il capanno Né sopra Al tavolino Davanti al Al capanno Ok Quindi non siamo soli Perfetto Ma no Non sempre Spawna roba lì Però È probabile Che non saremo soli Solo per un pompino Però Esatto Allora Dunque la mappa Quindi adesso Dovebbe restringersi O su Roddok O su Severny O su Aspetta Pollyanna Mi è perso di sentire Dei colpi Arrivarmi vicino alle gambe O era fango Ed erano i miei passi Mentre attraversavo qui La scia dell'aereo O erano i miei piedi nel fango Potrebbe anche essere Non farmi prendere Gli accidenti così Eh Io dove devo andare E io vado Allora Allora Aspetta Aspetta qui 30 secondi Che si finisce Di restringersi l'area Sì Intanto io ho pacciocato Quindi si stringe O su Roddok O su Cosa Allora Qui c'è il poligono di tiro Che sarà Iper pieno di gente Questo qua Subito sulla destra Qua dove te ho messo il puntino Apri 30 secondi la mappa E cos'è il poligono di tiro Quello? Sì Il poligono di tiro Quanti posti mai visti? E qua ci sono Quelle due casette Che si eravano girate Una volta Io e te Mi sembra Queste qua sotto Sì Però in queste casette qua Non so nemmeno io Se avvicinarmi a piedi O se avvicinarmi con la moto Perché più casino fai adesso E più è rischioso Che cazzo? Parti Anche mirare da dietro di te Allora Facciamoti andare di qua Rischiamocela E vado ancora Io però tra un po' La mollo giù la moto Perché è troppo A me non mi piace Eh ma è troppo rumorosa Cioè Non che la macchina Lo sia di meno Però Per ora Sembra tutto Tranquillo Non so però Quale case la Non vedo troppo Guarda Facciamo così Quel bug Per nella piedi No 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 Fermi Scendi un attimo Non ho un mirino abbastanza furbo Da riuscire a vedere Guarda un attimo L'air drop Dov'è scusami Adesso che ha rallentato i motori Non è tutto distante Devo dire dove droppa Il conto A 70 70 Sì 70 gradi Dritto all'albero Dovevi fare Non è distante Lo stiamo Rischiamo dai Piedi o moto No No con la moto No con la moto Guido io Sì dai La moto con la retro Però non si può vedere Sì Ecco di non far salti Sì Ecco la 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 vedi Sì la vedi Io guardavo da tutta l'altra parte Non ho capito Non lo saprà mai nessuno Sì tranquillo Ok Sto registrando Anch'io Tu stai registrando Sì Anche io Vabbè Sì Siamo capiti Allora 16 sali Queste due case qua Piano 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 Scendi La moto se ne sta andando Come se ne sta andando Oh Fermai Merda Che gente Ci sono passati dentro Sicuro perché Sono le porte tutte aperte Però non Non vedo movimento Però adesso Sono camperati Che dici Ce la rischiamo Siamo in 22 La probabilità Perché è più caldo Perché ci avranno Quelli alle spalle Adesso È probabile Allora Prendine Dobbiamo tenerne una E basta Sinistra 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 Sì Ok Entro Scusa Decidi Vai 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 Fai morire Scusa Ok Libero Libero Siamo ancora dentro Una mappa Non volevo dirtelo Aspetta Chiudi anche Sta a fare qua Delle Ok Libero È libero Ok Allora noi adesso Se siamo Fortunati Ci arrivano in faccia Quelli due là Del coso In teoria Se siamo sfigati Ci attacchiamo Al cazzo Ma non Sai che non Sono passati Mica di qua È bene Pieno di armi Sto notando Anch'io Così È brutissimo Non dico Che quelli là Ci passeranno Davanti Però Oh Siamo In quattordici Oh Fico Allora Fai solo una cosa Guarda bene Che non ci sia nessuno No Non fare casino Niente Stavo prendendo Rompi le No Stavo prendendo Rompi le finestre Ma No Stai su Stai su Se vai giù È peggio In realtà Ho le porte D'ingresso Sotto occhio Così Se tu vuoi Io guardo da sopra Adesso vedo qualcuno Ok Ma qua c'è una porta Sfandata Che qualcuno Gli ha tirato un pugno Qualcosa qui è successo Eh Sì Possibile sia un colpo Di fucile a pompa Però è qua per terra Il fucile a pompa Non capisco Perché ce l'avevano già Erano solo di passaggio Io sto guardando Non frega te Del numero in alto a destra Ti distrai soltanto E basta Allora Tra dieci secondi Si restringe l'area Quindi Dovremmo iniziare A vedere la gente Che Da dietro la collina Viene verso di noi Però Occhio perché Nell'aer drop Hai iniziato Sì sì ho visto Di solito Nell'aer drop Ci sono purtroppo Le I mirini 4x Che non abbiamo ancora trovato Noi sto giro E passa anche un altro Aer drop Merda Vuol dire che ce l'avevano un lato Qua sopra Ho fatto sto suono È possibile Sì Ce l'avevano È un po' distantino Però è verso il centro mappa Se ti avviciniamo Moriamo male E ho sentito Gli spari da sinistra Mi sembra Eh Sì ed è morto anche No da destra 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 Ci sono una finestra Perché da dentro È molto difficile Sentire Benire E neanche rompendo i vetri Cambia molto Interquente rompendo i vetri Dove si sentire di più Però Ok Occhio perché adesso C'è il cerchio Duca qua vicino Quindi È molto probabile Che qualcuno Si avvicinerà Però c'è questa stanza Che non è affatto male Perché Ho la visuale su due lati Anch'io Ma stavo per dire Ma sei nella mia stessa stanza Allora qua sembra Non esserci nessuno Per ora E di qua Allora dunque Fammi un attimo capire Noi siamo abbastanza vicini Alla mappa Quindi Guarda qui due secondi La mappa O ce la rischiamo E proviamo ad andare qui Però è molto rischioso Ma che cazzo Meno male che dovevi Controllare anche te Le sue cose No cristo Mi ha preso in testa Ma dove cazzo Sono entrati Sti qua Da sotto Mentre guardavamo la mappa Ma non ho sentito Un cazzo di rumore Zero Ma anch'io Non capisco Come cazzo è Vabbè 5 su 5 Vabbè Siamo arrivati qui 5 su 5 Sì ma siamo morti Come due polli Già Non ho capito Il perché E come E quando Ho fatto ben 6 Hit point Io non ho guardato Se ne frega Vabbè Pazienza Siamo morti Come polli Addio E grazie per tutto il pesce Soprattutto 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 Soprattutto